Ti rendi conto che amore nel momento in cui più che apprezzarne i pregi, ne adori i difetti. Ma prima di parlarne, sigla! Ciao gente, bentornati in questo nuovo video. Come vi dicevo prima, è un video su una storia d'amore. Una storia d'amore fra me e la serie X100 di Fuji. E mi sono reso conto che era una storia d'amore nel momento in cui ho iniziato a sopportarne, anzi a apprezzarne i difetti e vederli come un punto di forza nel sviluppare il linguaggio fotografico. Prima di parlarne però, in modo più approfondito, volevo chiedervi di lasciare like a questo video e di iscrivervi al canale. Per voi è un piccolo gesto, però per me è un grande aiuto. L'amore con la serie X100, quindi nasce proprio con la prima Fujifilm X100. Faceva ancora parte della serie Finepix. Diciamo che l'X-Series non era ancora nata, era stato il primo passo, il primo mattone. L'amore è nato nonostante tutti i difetti della macchina. La macchina è lenta a livello operativo, a livello di autofocus, però era molto molto buona a livello di resa dell'immagine. Perché comunque con un sensore piccolino, era 12 megapixel, comunque riusciva a tirare fuori delle foto estremamente interessanti. E l'altro suo grande limite, l'ottica fissa non intercambiabile, dall'altra parte ti obbligava a inserire e a ragionare molto a livello compositivo. Perché non c'erano altre soluzioni, non potevi cambiare ottica, dovevi utilizzare assolutamente queste. Ed è una cosa che nella serie X100 mi è subito piaciuta tanto. Quindi adesso sono alla terza X100. Ho preso, come vi ho fatto vedere nel video precedente, una Fujifilm X100F. Che è la quarta serie della serie X100, della serie X con ottiche fisse. Ha un 23 mm F2, come tutte le altre X100. Ha lo stesso sensore 24 megapixel della X-Pro2, dell'X-T2, dell'X-AXA e dell'X-H1. Ok, ce la faccio anche a dirlo. A livello ergonomico la macchina è molto molto simile all'X-Pro2, alle stesse ghiere e ha praticamente gli stessi comandi. E questa cosa per me che arrivo da X-Pro2 e X-T2 è una bomba perché so già come muovermi all'interno dei menu. Così ecco, siamo qui. Sì, oggi è l'ultimo giorno di un weekend nelle Marche per provare un po', diciamo sul campo, le foto che ho fatto con l'X100F. Volevo chiedervi, già che ci sono, anche qual è stata la macchina fotografica con cui è scattato l'amore per voi. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Così ecco, ecco le foto che ho fatto in questi giorni in giro per Urbino, per la tenuta Santi Filippo e Giacomo. Spero di averlo detto giusto perché non me lo ricordo mai. E oggi pomeriggio, ultima tappa, andiamo a fare un giro a San Marino. Quindi ci saranno anche probabilmente qualche foto scattata a San Marino. Devo dirvi che davvero è quello che mi aspettavo la macchina. Nel senso che mi piace molto l'idea del 23 mm fisso, che è un equivalente a un 35, che ti permette più o meno di raccontare tutto, ma con quel limite per cui spesso e volentieri, se vuoi cambiare punto di ripresa, l'unica cosa che puoi fare è muoverti con le gambe e cercare con un po' di creatività di incastrare tutto all'interno dell'immagine, oppure di tagliare fuori quello che effettivamente non serve in modo da comunque raccontare, perché a 35 mm è buona, perché è abbastanza ampia, ma non è così ampia magari da fare dei panorami e non è così stretta magari da fare dei super dettagli, quindi bisogna imparare a decidere. Questa cosa ed è una cosa che sulla serie X100 mi ha colpito davvero fin da subito. Posso dire che come Pro, quindi l'ottica che è di qualità, la prospettiva dell'ottica che mi piace veramente tanto e l'ergonomia Fujifilm con tutte le sue rotelline sopra, che è veramente una bomba, è stracomoda, almeno dal mio punto di vista perché basta buttare un occhio sulla macchina per capire come è impostata, come sono i tempi, qual è il diaframma e anzi adesso con il nuovo layout che è simile a quello dell'X Pro 2 capire anche gli ISO che sono stati impostati. Fatemi sapere se le foto vi sono piaciute, cosa ne pensate di questa Fujifilm X100F, magari l'avete anche voi qual è la macchina con cui, la macchina fotografica con cui è scattato l'amore e niente, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!